L'uomo arrestato ieri a Stoccolma in relazione all'attentato compiuto nel centro della città sarebbe stato alla guida del camion che si è diretto sui passanti, uccidendo quattro persone. E' quanto ritiene la polizia svedese che non ha finora confermato né un secondo arresto di cui parlano i media locali né l'indiscrezione secondo la quale nel camion sarebbe stato trovato dell'esplosivo. Le indagini sull'attentato sono in pieno svolgimento e un portavoce delle autorità invita la cittadinanza a non rendersi nei quartieri centrali della capitale. E' ancora la scena del crimine e rimangono molte cose da fare lì, ha detto. Continua intanto l'esame dei testimoni di quello che è accaduto con l'obiettivo di ricostruire i fatti. Il camion che ha causato un incendio schiantandosi contro una vetrina era stato rubato a una ditta di distribuzione di bevande in mattinata ma il furto non aveva fatto scattare alcuna allerta antiterrorismo. E mentre si moltiplicano i messaggi di cordoglio per le vittime, anche i paesi vicini hanno innalzato il livello di allerta dalla Finlandia alla Norvegia fino alla Danimarca che ha istituito checkpoint lungo il ponte che la collega con la Svezia.